Prima di dare la parola a Renato Corsini, solo una sottolinea a tutti i giornalisti perché noi ci teniamo molto. Con il Brescia Voto Festival parte anche il premio dedicato a Mario Dondero. Il primo appuntamento è stato un grandissimo fotografo italiano, scomparso lo scorso anno. La famiglia, proprio per il mercame che lui aveva con Brescia ma anche con il progetto di Marco, fa proposto questo premio, un premio annuale alla fotografia, che è una fotografia soprattutto di testimonianza e di impegno civile anche per dare continuità e valore al lavoro che lui da fotoreporter ha fatto, un fotografo controporrente, quindi appuntamento anche per un premio Dondero. Prego Renato Corsini.